Al centro di un ring muscoloso con un costume rosso, con stampato il numero 45, è la raffigurazione del 45esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulla sua nuova linea di carte digitali in vendita a 99 dollari a figurina. L'America ha bisogno di supereroi, spiega l'ex presidente sul suo social network Truth Social. Con questa strategia di marketing, Trump prova a ridare vigore la sua campagna elettorale per le presidenziali del 2024, non decollata come previsto. Secondo i sondaggi, non sarebbe il candidato repubblicano preferito, rimanendo dietro al governatore della Florida, Ron DeSantis.